buonasera buonasera e buonasera anche a lei benvenuta come ti chiami sono alessia alessia dove vieni montichiari bene bene guarda come come dire elegante composta però che però devo fare l'intervista così perché sennò abbiamo un po di problemi di livellamento no 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 stai pure tranquilla su e allora cosa stai festeggiando questa sera è il mio diciannovesimo compleanno 19 anni oggi giorno giusto bello giorno giusto è che è un po come dire un ponte tra i 18 che sono importanti e i 20 che poi ti porta esatto la morte 20 fine fine stare via esatto brava se la buttare via quindi ti vengono a prendere il martedì notte perché con l'umido perfetto quindi come ti senti a 19 anni come vivi questo periodo di transizione da a bene per adesso la presa abbastanza bene sempre un anno in meno vissuto vanno in più vissuto ma in meno da vivere filosofica è la nostra la nostra amica di montichiari molto filosofica cosa fa nella vita studio giurisprudenza giurisprudenza allora non ho mai detto niente non ho mai detto niente io sono non ho mai accusato lei di nulla bravissima bellissima simpaticissima ok vuoi dirci un codice del codice civile memoria un codice sconto un articolo del codice civile memoria no grazie passo passa niente non è ancora pronta la l'italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro è pronta è pronto nel codice civile questa è la costituzione lo so va bene che è preparatissima preparatissima vuoi dire un altro articolo della costituzione che è il tuo pezzo forte oddio mi prendi impreparata sinceramente te lo dico io ho un altro che conosco molto bene prendi una donna mi sfugge dille che l'ami teorema marco ferradini teorema questa è la base della questa è dopo la repubblica italiana è fondata sul lavoro cioè prendi una donna e dille che lo sa bene lo sa bene va bene un altro articolo anche fondamentale è i puffi sanno sai niente neanche questo conosce non lo conosce neanche questo mamma mia non conosce ok questo sicuramente lo conosce sian tre piccoli porcellin sian così niente torna a ripassare torna a ripassare questa ragazza non sa le basi della costituzione italiana molto bene allora vuoi salutare qualcuno vuoi dire qualcosa saluto tutte le mie amiche che sono qua con me stasera eccole eccole che stavano beatamente chiacchierando facendosi i fatti loro ma fanno bene così allora ringraziamo la nostra festeggiata le auguriamo buon compleanno e a presto ciao